Chiuse per due giorni oggi lunedì 23 novembre e domani martedì 24 la scuola elementare e quella materna di Collodi nella comune di Pescia a causa dell'aumento dei contagi da covid-19. Il sindaco Oreste Giurlani ha firmato l'ordinanza sentita l'ASL per la chiusura a causa dell'aumento dei contagi e delle classi in quarantena. In questi due giorni verrà effettuata una sanificazione straordinaria e verranno fatte verifiche epidemiologiche da parte dell'ASL. Ho firmato un'ordinanza dove chiudo preventivamente due giorni 23 e 24 quindi lunedì e martedì la scuola di Collodi il Mussino complessivamente l'istituto sia la materna che l'elementare dopo un consulto con l'ASL e quindi un accordo preventivo visto l'aumento dei contagi visto le classi che vengono messe in quarantena ho deciso di chiudere da ora la scuola due giorni per fare sanificazione e nello stesso tempo dare il tempo all'ASL di verificare epidemiologicamente la situazione e quindi poi poter decidere mercoledì se poter riaprire l'istituto in maniera tranquilla o ci sono dei problemi. Quindi noi vogliamo tutelare la salute quindi riteniamo giusto fare questo.